Vengiamo di divertirci molto. Successo di pubblico e di partecipanti alla sesta edizione di Corri con Papà Natale promossa dalla associazione Green Sport preseduta da Giuseppe Valetti. Tantissimi ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione che si svolta sul corso principale. Un appuntamento annuale che richiama sempre l'attenzione, soprattutto dei curiosi. Un'affluenza numerosissima di oltre 800 bambini con i rispettivi genitori, papà, che accompagnano i bambini in una festa, festa di Natale. Che Babbo Natale omagerà a tutti i bimbi questa occasione di condividere un regalo fatto dai loro papà e un'emozione unica per lo sport, per lo stare insieme e sicuramente uno dei più beri regali che avranno per Natale. Gela è pronta per accogliere una festività natalizia del genere come quando accade nelle città del nord con la Baby Run o la Baby Santa Claus Run che si svolge a Bolzano dove ci sono oltre 20.000 partenti.